Se invece stringiamo la distanza tra i due pesi, quindi li avviciniamo al centro, il momento di inerzia dell'apparecchio di rotazione diminuisce, così togliendo il fermo vediamo che la rotazione è molto più rapida, il sistema accelera molto di più, sono sempre 40 grammi di pesi in caduta, però adesso il sistema acquista molto più facilmente un'alta velocità.